Benvenuto Roberto, a quanto pare il mio reclamo è stato ascoltato, sei tornato? Io stavo pensando sia a dire alle vie legali, ma poi visto le accuse che mi sono state rivolte ho preferito passare ai metodi diretti e mi ne metti in scrush. Vogliamo ricordare che cosa avevamo detto? Che sono scappato per non lavorare. Ma infatti il lavoro è finito, è terminato. Ma io avevo impegni e allora adesso sono tornato a fare un po' di preparazione. Quanto starai così? Ma mi trattengo una diegine di giorni. Va benissimo. E finché sarò gradito rimarrò poi. Allora ti alleni così insieme ai nostri giovani? Mi alleno a singhiozzo perché comunque sono stato fermo tanto e ho preferito fare l'intervista prima perché a fine allenamento non garantisco lucidità sufficiente per rispondere. Ok Roberto, grazie di tutto, buon lavoro e buon allenamento. Ciao Giuseppe, un saluto a tutti. Ciao.